Il comune di Napoli esprime solidarietà al giornalista marocchino Alil Mrabet, reduce da uno sciopero della fame di oltre 30 giorni per poter continuare ad esercitare la professione nel proprio paese. Fondatore di due giornali satirici, Alì è un dissidente per il governo marocchino. Nel 2003 fu condannato a quattro anni di reclusione per oltraggio alla persona del re, è stato poi interdetto dalla professione giornalistica per dieci anni fino ad aprile scorso per aver definito rifugiati i profughi dei campi saharaui in Algeria e non prigionieri come vuole il regime. Ha continuato a fare il giornalista in Spagna e in attesa di rilanciare i suoi giornali in Marocco, ma ancora oggi, terminati gli anni di interdizione, il governo prova a impedirglielo rifiutando di rinnovargli i documenti. L'esperienza è difficile, naturalmente, però ci sono anche molti lettori che ci seguono perché sanno che la nostra, sia pure in condizioni estremamente difficili, noi scriviamo quello che bisogna scrivere, la realtà così com'è. Il Marocco, per esempio, è un paese che nonostante le apparenze, nonostante quello che si dica, è una dittatura vera e propria. Accompagnato dal giudice Nicola Quatrano, presidente dell'Osservatorio Internazionale per i Diritti, Alilm Rabet ha incontrato in sala giunta il vice sindaco Raffaele del Giudice e l'assessore alla cooperazione decentrata Sandro Fucito. Sarà inoltre ospite d'onore alla prima edizione del Festival Internazionale di Giornalismo Civile in Bavaiati, in programma al PAN di Napoli fino al 29 agosto. L'impegno concreto è che nessuno rimanga da solo, questo per noi è davvero un motivo di orgoglio, anche molto emozionante. Noi adesso faremo una serie di valutazioni, la stessa iniziativa di oggi, il Festival del Giornalismo Civile che si tiene al PAN, il premio Pimentel Fonseca, insomma noi dobbiamo porre questi temi al centro, dobbiamo recuperare il primato della cultura dei diritti civili e dell'impegno contro le illegalità perché ci sono tante amministrazioni che su questo stanno investendo, tanti giovani. Bene, Napoli si candida e lo sta facendo nei fatti con questa settimana a costruire questa architettura dell'impegno civile.